Italia cittadella, perché città è una squadra aggressiva, una squadra che non ha nel suo DNA la categoria, cioè la serie B è questa, loro hanno tentato bene, scuola a corsa, scuola combattiva aggressiva, quindi non dobbiamo subito interpretare la partita per quelli che sono anche le nostre progettive, alla fine diremo le somme che ha fatto meglio, che era due di più, che magari dovrebbe essere stato infortunato, però dobbiamo fare la partita a tutta firma domani. Diventa importante continuare questa striscia di risultati positivi. È normale, permesso che a prescindere da quello che si è fatto prima, ogni volta si va in campo per cercare di ottenere il massimo, e quindi andiamo con la testa giusta e con la convinzione di poterlo fare questa volta.